Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della pandemia è finito invece in modo illecito. Nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto e la maxifrode scoperta dalla Guardia di Finanza in un'indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse regioni, tra cui l'Abruzzo. Complessivamente sono 78 le persone indagate e 35 le misure cautelare emesse dal GIP, 8 le persone finite in carcere e 4 ai domiciliari, mentre nei confronti di 20 imprenditori è stata disposta l'interdizione all'esercizio d'impresa e per 3 commercialisti l'interdizione all'esercizio della professione. Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, facevano parte di un'associazione con base a Rimini, ma con ramificazioni in tutta Italia, responsabili di aver creato e commercializzato per un importo di 440 milioni i falsi crediti di imposta, lo strumento introdotto tra le misure previste del Governo con il decreto rilancio del 2020 per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà. L'esecuzione delle misure è scattata, oltre che in Emilia-Romagna, anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. I finanziari di Rimini, assieme agli altri reparti territoriali, allo Scico e al nucleo speciale frodi tecnologiche, hanno eseguito anche un'ottantina di perquisizioni e sequestrati i falsi crediti di imposta a beni e società per il reato di indebita, percezione di erogazione ai danni dello Stato. Tra gli indagati, nove avevano anche presentato domanda di reddito di cittadinanza, mentre altri tre avevano precedenti per associazione di stampo mafioso.